Benvenuti o bentornati sul mio canale, il mio nome è Chiara e sono appassionatissima di cronaca nera e proprio su questo canale voglio trattare casi nazionali ed internazionali e per il caso di oggi ci troviamo nuovamente negli Stati Uniti come potete vedere ho cambiato set semplicemente perché ho cambiato casa quindi devo ancora cercare di capire cosa mettere nello sfondo, trovare lo spazio giusto mi sono trasferita qualche giorno fa quindi sono ancora nel mezzo diciamo del traslogo il caso di oggi in realtà è un caso che io ho trattato in questo canale nel mese di maggio e dopo poche settimane ho cancellato il video questo perché nel momento in cui l'avevo pubblicato non mi ero resa conto che l'editing cioè il montaggio del video era completamente sfalsato quindi ho pensato proprio di rifarlo da capo questo video invece di modificare quello precedente e quindi se mi seguite da un po' potreste averlo già visto però per tutti i miei nuovi iscritti è assolutamente un video completamente nuovo e detto questo iniziamo finalmente con la storia di oggi oggi vi voglio parlare di una ragazza di nome Molly Watson originaria della città di Moberly nello stato del Missouri appunto negli Stati Uniti Molly nasce il 15 dicembre del 1982 da Timothy e Sandra Watson dopo pochissimi anni nascerà anche suo fratello minore di nome Tim con il quale Molly svilupperà negli anni un legame veramente forte era un rapporto forse che andava anche oltre il fraterno un rapporto simbiotico Molly aveva una personalità decisamente esuberante infatti tutte le persone che la conoscevano la descrivevano come qualcuno di cui non si poteva non notare la personalità infatti traspariva in qualsiasi circostanza era una persona particolarmente eclettica aveva numerosissimi interessi che spaziavano dalla recitazione al canto al disegnare e realizzare costumi era infatti anche appassionata di cosplay ed amava i film Marvel era diciamo una vera e propria nerd il suo posto preferito in assoluto era la Florida non tanto per il mare ma perché in Florida c'era Disney World lei era appassionatissima dei film appunto della Disney di tutto l'universo Disney aprirà anche un canale YouTube una specie diciamo di canale vlog dove parlerà di tutte le sue passioni inclusi appunto i film della Disney ora vi faccio anche vedere qualche clip ciao molly i have the much promised satin robe off of Aliexpress i have five cats i that's all i got is this dude i have a whole bunch of this bring back what once was mine heal what has been heard molly una volta finiti gli studi inizia un piccolo business online che chiamerà Shine Spark dove realizzava le stesse degli smalti per le unghie era un vulcano di idee fondamentalmente molly si sposa molto giovane il matrimonio però durerà solamente due anni ed infatti all'età di 25 anni molly era già in procinto di divorziare e proprio durante le pratiche per il divorzio molly scopre di essere rimasta incinta questo tuttavia non la spinge a tornare con il marito o meglio ormai l'ex marito infatti aveva ormai preso la decisione di voler restare da sola ma continuerà la gravidanza e quindi da lì a poco all'età di ormai 26 anni molly diventerà madre di un bambino che chiamerà Declan rimane tuttavia sola per pochissimo tempo infatti in quel periodo particolarmente difficile ritrova un'amica d'infanzia che aveva conosciuto alle scuole materne pensate di nome Amber e Amber e Molly iniziano una relazione sentimentale si innamorano l'una dell'altra e quindi i primi anni di vita di Declan Molly li passerà proprio con Amber le due sono molto felici fino a quando all'età di 28 anni Molly inizia un nuovo lavoro come guardia carceraria per il Moberly Correctional Center e lì incontrerà James Eddy e perderà completamente la testa per quell'uomo James ricopriva la posizione di tenente del penitenziario e lavorava nella struttura ormai da moltissimi anni la sua era rispetto soprattutto a quella di Molly una posizione di prestigio anche remunerata diciamo molto bene Molly viene immediatamente corrisposta da James purtroppo alle spalle di Amber Molly era infedele ad Amber ma anche James lo era era sposato infatti da diversi anni con Melanie e con la donna avevano dei figli ma James racconta a Molly che sì era sposato da diversi anni ma quella relazione ormai era finita ed erano in procinto di divorziare ma le pratiche purtroppo stavano richiedendo più tempo del dovuto questo è quello che inizialmente aveva raccontato a Molly nel frattempo Amber inizia ad intuire che ci fosse qualcosa che non andava ed un giorno Amber esce di casa e decide di seguire Molly con la macchina la segue fino al parcheggio di un hotel dove si era incontrata con James e lì scopre che Molly la stava tradendo e ovviamente quella fu la fine della relazione tra Amber e Molly che lascia la donna immediatamente una volta scoperto ovviamente che la stava tradendo Molly finalmente poteva ufficializzare la sua relazione con James anche James era originario del Missouri era nato il 4 luglio del 1965 e questo significava che aveva ben 17 anni in più rispetto a Molly in quel momento come ho già detto l'uomo era sposato ma quello non era stato in realtà il suo primo matrimonio bensì il quarto ma con l'ultima moglie appunto Melanie era sposato da ben 23 anni avevano due figli adolescenti nel momento in cui si incontra con Molly Emma e Benson Molly aveva completamente perso la testa per l'uomo chiunque la conoscesse incluso anche suo fratello non l'aveva mai vista così persa per qualcun altro così innamorata e felice tuttavia la famiglia di Molly non era molto entusiasta ecco della sua scelta non che lui avesse mai fatto qualcosa contro di loro contro Molly o fosse mai stato irrispettoso nei loro confronti ma c'era qualcosa che non so forse chiamiamolo un sesto senso che non li faceva stare tranquilli ecco che Molly stesse con lui anche il fatto che l'uomo avesse comunque già una famiglia avviata e avesse anche parecchi anni in più rispetto a Molly era sicuramente un punto a suo sfavore ai loro occhi il modo di James anche di comportarsi in pubblico quando erano presenti gli amici e i conoscenti e i parenti anche di Molly era strano ad esempio James non guardava mai le persone negli occhi a stento in realtà interagiva con loro era piuttosto taciturno anche quando veniva interpellato le persone cercavano insomma di comunicare con lui rimaneva sempre sulle sue e questo andava ben al di là della timidezza o della riservatezza gli amici i parenti di Molly descrivono la personalità di James come una personalità fantasma ma soprattutto c'era una persona a cui proprio James non piaceva ed era Tim il fratello di Molly lui aveva avuto proprio la percezione sin dall'inizio che fosse un bugiardo sapete quella persone che tendono sempre a inventarsi delle cose ma a volte non c'è una ragione specifica ci sono delle persone che mentono letteralmente su tutto per nessun apparente motivo e Tim aveva proprio quell'idea di James inoltre Molly pagava quasi per tutto per le loro uscite insieme per le vacanze per le spese diciamo comuni come ad esempio la benzina nonostante lui avesse uno stipendio nettamente superiore rispetto a Molly nonostante tutto questo vedendo Molly così felice e ormai con una relazione con James avviata da anni nessuno voleva intrometterci insomma e rovinare questo equilibrio che Molly sembrava aver trovato gli anni passano ma le pratiche del divorzio di James non sono mai finalizzate a volte l'uomo si giustifica dicendo di non voler insistere con la finalizzazione delle pratiche perché i figli erano ancora troppo piccoli e Molly al tempo stesso sembrava non voler fare troppe pressioni su di lui ma finalmente un giorno dopo sette anni l'uomo dà una notizia che Molly aspettava dal momento in cui l'aveva conosciuto finalmente aveva divorziato inutile dire che Molly è ovviamente al settimo cielo finalmente poteva ufficializzare quel rapporto di oltre sette anni e sarà proprio Molly che in quel momento ne aveva trentacinque di anni a chiedere a James di sposarla cosa un po' insolita no? in una coppia che si ha la donna a proporre il matrimonio però poi è anche vero che ogni coppia è diversa dall'altra e James accetta finalmente potevano convolare a nozze Molly avrebbe sposato l'amore della sua vita dà la lieta notizia alla famiglia e agli amici e da subito inizia a parlare con tutti dei dettagli del matrimonio di dove l'avrebbe organizzato di come sarebbe stato il suo vestito aveva comprato addirittura due vestiti da sposa perché non sapeva quale scegliere la cerimonia era prevista per l'aprile del 2018 quando però nel 2017 quindi quattro mesi prima della data prevista per le nozze avviene una tragedia nella famiglia di James infatti sua moglie quindi ormai l'ex moglie Melanie è vittima di un incidente stradale e la donna a seguito di questo tragico incidente entra in coma la famiglia di James e anche Molly sono profondamente addolorati la donna infatti era in coma irreversibile non si sarebbe più svegliata purtroppo tuttavia Molly non vuole che questa tragedia per quanto grave vada ad interferire con i preparativi delle nozze che comunque si sarebbero svolti dopo oltre tre mesi infatti la data prevista per il matrimonio era il 29 aprile quando però ad una quasi settimana dalle nozze il 20 di aprile accade qualcosa Melanie purtroppo muore a seguito delle ferite riportate dall'incidente stradale la coppia quindi James e Molly a seguito di questa notizia pensano anche di cancellare di rimandare la cerimonia James era in una situazione paradossale perché da un lato doveva organizzare il matrimonio con Molly e dall'altro stava organizzando il funerale della sua ex moglie e ovviamente doveva anche essere vicino ai suoi due figli ma dopo averne parlato i due decidono di non rinviare le nozze prima della cerimonia religiosa del 29 di aprile si sarebbe svolta la cerimonia civile entrambi si recono con la documentazione necessaria nel comune della cittadina di Moberly per procedere all'unione civile ora io non so come funzioni in Italia però negli Stati Uniti è necessario solamente presentare il proprio documento identificativo e la social security card che credo sia una sorta di codice fiscale americano in aggiunta a questi documenti già menzionati bisogna firmare una dichiarazione una autodichiarazione in cui si afferma che in quel momento entrambi i futuri coniugi non sono sposati ad altre persone e sono proprio loro a attestare la veredicità di quanto affermano e il 25 di aprile Moberly e James firmano questi documenti in comune l'uomo che si occupa della loro pratica racconterà in seguito che quando aveva chiesto a James se fosse attualmente sposato e ricordo questa era una domanda di routine la stessa domanda era stata posta anche a Molly James era stato molto evasivo nelle risposte nonostante Molly sapesse che lui era stato sposato quattro volte e in quel momento quell'uomo non ne capì il motivo James rispose ma perché me lo chiede è rilevante ricordiamo che questa persona che si occupava degli atti probabilmente ne aveva redatti non so a centinaia se non migliaia però James per le sue risposte per il suo comportamento gli era rimasto impresso e così il 25 aprile del 2018 lasciano il comune di moverli come moglie e marito la cerimonia religiosa quindi si sarebbe svolta quattro giorni dopo il 29 ma purtroppo il 27 di aprile quindi due giorni prima della cerimonia avviene qualcosa di tragico un uomo di nome Glenn McSperience stava guidando la sua macchina stava infatti portando sua figlia piccola quel 27 di aprile a casa della madre ovvero della nonna della bambina quella notte Glenn era molto stanco quindi decide di prendere una scorciatoia con la macchina che si trovava tra l'autostrada 151 e la route M quella scorciatoia era una stradina di campagna quei posti dove fondamentalmente speri che non ti si fermi mai la macchina il tracciato era quasi sempre fangoso il tragitto era totalmente privo di illuminazioni era tra l'altro una via che bisognava necessariamente conoscere per passarci era veramente se no difficile arrivarci e Glenn mentre percorre quella strada nota due macchine parcheggiate una con i fari accesi e l'altra con i fari spenti e nota un uomo in piedi vicino ad una di queste macchine il che gli sembra un po' strano così ferma la sua auto e chiede a quell'uomo se avesse bisogno di aiuto ma l'uomo risponde di no che non ne aveva bisogno Glenn affermerà in seguito di non ricordare bene il volto di quell'uomo anche perché i fari lo illuminavano da dietro quindi questo rendeva assolutamente impossibile vedere il suo volto in maniera nitida e tra l'altro quel bagliore proveniente dai fari lo stava letteralmente accecando dalla voce però poteva percepire che fosse un po' in là con l'età e da quello che aveva visto era sicuro che fosse bianco Glenn così prosegue su quella strada con sua figlia lasciando quell'uomo misterioso e quelle due auto dietro di lui arriva a casa di sua madre e come da programma appunto lascia sua figlia dalla nonna Glenn così si rimette in macchina e ritorna a casa sua percorrendo lo stesso tragitto di prima quindi ripassando per questa stradina e lì alle dieci di sera trova solo una macchina quando prima appunto erano parcheggiate due lì e vede qualcosa che sembrava essere un corpo umano al centro di quella strada sembrava giacere lì senza vita e così Glenn prima di scendere chiama il 911 l'operatore al telefono lo spinge a lasciare la vettura e controllare se la persona a terra fosse ancora viva quando si avvicina al corpo per controllarne il battito purtroppo potrà solo che constatare che la persona che giaceva a terra una donna era morta la polizia immediatamente identifica la vittima come Molly Watson Molly era morta solamente due giorni prima del suo matrimonio intendo il matrimonio religioso con l'amore della sua vita un matrimonio che attendeva da ben sette anni inizialmente ritengono che la causa della morte fosse stata un colpo alla testa in quanto proprio in prossimità del volto sulla scena del crimine c'era un'enorme macchia di sangue ma in sede di autopsia troveranno un foro di proiettile chiunque aveva ucciso Molly le aveva sparato un colpo nella parte posteriore della testa come se fosse stata un'esecuzione un solo colpo che però le era stato fatale non poteva certamente essere stata una rapina in quanto la donna portava al dito ancora l'anello di fidanzamento Molly Watson viene identificata sulla scena stessa perché all'interno del cruscotto della macchina trovano i documenti identificativi di Molly e trovano anche il contratto di matrimonio del 25 di aprile su questo documento ovviamente era indicato anche il nome del marito cioè di James Eddie e quindi la polizia quella notte si prepara per andare a casa di Molly e di James dove pensavano di trovare appunto il marito di Molly quindi James Eddie e dovergli dare la tragica notizia ma gli agenti rimarranno senza parole quando ad aprire la porta sarà Melanie la moglie di James sposata con lui da ben 23 anni Melanie esattamente la donna che James aveva detto essere morta la settimana prima a seguito di un coma che era durato per quattro mesi e quando alle 2.30 del mattino questa donna apre la porta gli agenti gli chiedono chi fosse e Melanie si identifica e immediatamente viene fuori che fosse Melanie la moglie di James e non Molly e immaginiamo la confusione iniziale sia da parte degli agenti ma anche da parte di Melanie gli agenti spiegano a Melanie la situazione e Melanie non si capacitava di come Molly potesse figurare come la moglie di James Melanie conosceva Molly era una collega di James anche suo marito l'aveva menzionata innumerevoli volte negli ultimi anni quando gli agenti insinuano che forse James aveva una doppia vita Melanie sostiene che James non l'avrebbe mai tradita infatti pensate che James apparentemente detestava i traditori e lo ripeteva in continuazione a sua moglie che per lui era proprio inconcepibile che un uomo o una donna in generale potessero tradire il proprio compagno lui detestava questo tipo di persone peccato però che James la stesse tradendo a sua insaputa da ben sette anni Melanie infatti conferma agli agenti che lei e James fossero felicemente sposati non avevano mai parlato di divorzio James aveva mentito a Molly per ben sette anni inventando una realtà che non era mai esistita lui non aveva mai pensato di lasciare sua moglie ovviamente il contratto di matrimonio stipulato tra Molly e James fu ritenuto nullo in quanto James era già sposato e spiegarono a Melanie che fondamentalmente James aveva mentito anche a lei negli ultimi sette anni Melanie era veramente perplessa racconta che James aveva sempre dormito a casa era andato in vacanza con lei non tornava mai nemmeno troppo tardi la sera la maggior parte dei weekend stavano quasi sempre insieme come era possibile che l'avesse tradita l'unico fatto strano agli occhi di Melanie era quello che l'uomo con il suo turno di lavoro finiva sempre di lavorare alle 3 ma puntualmente rincasava sempre alle 5 e 30 6 del pomeriggio spesso Melanie gli domandava dove fosse andato dove andava in quelle ore subito dopo il lavoro ma queste discussioni non avevano mai portato a nessuna conclusione questo secondo lei era stato l'unico segnale che ci fosse qualcosa di strano nel comportamento di suo marito la sera del 27 aprile le aveva detto che sarebbe uscito con un collega di lavoro e la donna dopo poco era andata a dormire quindi non aveva visto quando era rientrato in quel momento mentre Melanie parla con la polizia James non si trovava in casa ma viene successivamente quindi nel corso del 28 di aprile il giorno successivo fermato dalla polizia e immediatamente arrestato Melanie inizia a riflettere che James l'aveva tradita per tutti quegli anni quindi un po' prende consapevolezza purtroppo della cosa e inizia a pensare dove potesse aver nascosto le prove della sua doppia vita si reca nel seminterrato ma non trova nulla lì dopodiché si reca nell'attico e lì troverà una valanga di prove che James aveva avuto una vita parallela trova infatti una serie di scatole con il nome di Molly sopra e quando le apre sempre in presenza degli agenti di polizia trova all'interno una serie di oggetti personali come scarpe abbigliamento make up che appartenevano a Molly delle scatole che Molly aveva preparato perché pensava di trasferirsi a casa di James per iniziare la loro vita matrimoniale pensate James aveva le prove della sua infedeltà proprio nella casa che condivideva con sua moglie e i suoi figli la polizia forza un cassetto chiuso a chiave che si trovava sempre nell'attico e al suo interno trovano tantissime foto di Molly e James insieme negli ultimi anni nelle foto i due apparivano felici in molte si trovavano a cena fuori altre foto erano di loro due in vacanza in Messico ed in Florida quando erano andati a Disney World pensate che James prima di partire per il Messico con Molly aveva raccontato a sua moglie che questi suoi amici di vecchia data lo avevano invitato ad andare con loro appunto in Messico ma lui aveva detto di non volerci andare perché gli dispiaceva di abbandonare la sua famiglia i suoi figli e Melanie lo aveva incoraggiato ad andare e a divertirsi senza ovviamente poter immaginare minimamente che non stava andando con i suoi amici ma con la sua amante per quanto invece riguarda la vacanza in Florida James aveva raccontato a Melanie che quello era un viaggio di lavoro infatti doveva partecipare ad un addestramento di tipo militare e pensate come se le umiliazioni non fossero abbastanza dopo qualche mese James porta sua moglie Melanie nello stesso hotel in Florida con cui era stato con Molly infatti ci sono delle foto in cui James si trova nella stessa struttura alberghiera sia con Molly qualche mese prima e poi con sua moglie Melanie qualche mese dopo e inoltre troveranno anche un cellulare di cui Melanie non era a conoscenza e su questo erano presenti moltissimi messaggi che lui e Molly si erano scambiati negli anni in quel momento e nei giorni immediatamente successivi questa notizia dell'omicidio di Molly per cui James viene immediatamente indagato viene tenuta nascosta ai figli di Melanie e James soprattutto alla loro figlia Emma infatti pochi giorni dopo questo episodio Emma avrebbe dovuto partecipare al cosiddetto prom il ballo scolastico del liceo e sua madre Melanie voleva tenere quella notizia diciamo per lei almeno per i giorni successivi fino a quando però la ragazza non lo scoprirà da sola pochissimi giorni dopo infatti diversi giornali riportarono l'incriminazione di James che appunto nel frattempo era stato arrestato come sospettato principale della morte di Molly e fu proprio un'amica di Emma che in quel momento aveva circa 17-18 anni ad inoltrarle l'articolo che raccontava il fatto e in questo articolo era presente anche la foto di Molly ed Emma quella donna l'aveva già vista infatti Emma l'aveva conosciuta l'anno prima la ragazza voleva prendere parte al comic-com e aveva bisogno di un vestito adatto per l'occasione come vi avevo detto Molly era appassionata di cosplay e realizzava lei stessa dei costumi così il padre dice ad Emma che conosceva una ragazza che poteva aiutarla a realizzare un costume per il comic-com così James porta sua figlia Emma a casa della sua fidanzata barra amante e le fa incontrare Emma ricorda di essersi seduta con Molly gli aveva parlato dell'idea che aveva per il suo vestito per quasi un'ora James aveva raccontato a sua moglie di essere uscito alle 7 del pomeriggio per vedere un amico e di essere rincasato alle 8 e 30 ma lei stava dormendo in quel momento tuttavia sappiamo che il cadavere di Molly era stato rinvenuto da Glenn intorno alle 10 di sera ad un orario in cui James sarebbe dovuto essere in casa ma sarà proprio sua figlia Emma che testimonierà che suo padre alle 10 di sera di quel 27 di aprile non era sicuramente tornato a casa e questo perché lei si trovava in cucina a studiare quindi era sicura che il padre fosse tornato più tardi infatti rientra in casa intorno alle 10 e 30 ed Emma ricorda che appena era arrivato si era recato al piano di sopra e aveva messo a fare una lavatrice dopodiché era entrato immediatamente nella doccia era sceso da sua figlia Emma per pochi minuti e le aveva augurato la buonanotte ed era andato a dormire questo intorno alle 11 di notte quindi la ragazza era assolutamente certa che l'uomo non fosse in casa alle 8 e 30 e ricordiamo che il corpo di Molly era stato trovato alle 10 di sera quindi certamente chi l'aveva uccisa l'aveva fatto poco prima delle 10 e la distanza tra quella stradina serrata e casa di James distava circa 20-25 minuti inoltre anche quell'alibi viene smentito infatti il collega che aveva menzionato James nega assolutamente di essere uscito con lui quella sera e nega proprio di essere mai stato amico di James era semplicemente una persona con cui lavorava ma non erano mai usciti insieme prima né tantomeno avevano pianificato di farlo quel giorno e anche l'analisi della scena del crimine collega James a quel crimine infatti sulla scena rappresenta una traccia di una ruota di una macchina lasciata nel fango che corrispondeva potenzialmente all'auto di James come confermerà anche un esperto della scientifica ed inoltre a poche centinaia di metri dal corpo di Molly viene rinvenuta una maglietta bianca con delle grafiche particolari sopra infatti quella maglietta era proprio di James ed era stata proprio sua figlia Emma a regalargliela in realtà a realizzarla infatti era stato un compito della sua classe di grafica quello di realizzare una t-shirt e lei l'aveva realizzata con queste accoscritte particolari l'aveva regalata a suo padre quindi non c'era alcun dubbio che quella maglietta fosse di James Eddy e quindi questo lo collocava sulla scena e proprio su quella maglietta vengono trovate tracce di DNA di James tracce di polvere da sparo e lo stesso sangue di Molly che probabilmente era finito su quella maglietta quando James le aveva sparato il processo per l'omicidio di Molly Watson inizia nell'aprile del 2019 la difesa sostiene l'innocenza dell'uomo e anche lui si dichiara non colpevole racconta di aver amato follemente Molly in quei sette anni e quindi perché mai avrebbe dovuto ucciderla inoltre James racconta che aveva pagato effettivamente questo è vero una parte del matrimonio quindi la sua difesa consisteva nel fatto che se lui avesse voluto ucciderla perché avrebbe coperto le spese del matrimonio stesso secondo l'accusa invece il movente sarebbe stato quello che Molly aveva scoperto la verità vale a dire che Melanie non era affatto deceduta e che lui non era divorziato infatti Molly nei giorni precedenti al suo omicidio aveva condotto numerose ricerche online cercando la camera mortuaria dove in teoria doveva trovarsi Melanie e ovviamente non aveva trovato alcuna informazione al riguardo quel pomeriggio il 27 di aprile si erano scambiati diversi messaggi in cui Molly gli chiedeva delle spiegazioni sul funerale di Melanie in quanto anche lei avrebbe voluto partecipare avrebbe voluto comunque essere vicina anche ai figli di James visto che da lì a breve avrebbe vissuto con loro Molly aveva parlato al telefono con James per 22 minuti fino al loro incontro quindi da casa sua fino al luogo in cui poi era stata uccisa e si pensa che sia stato proprio questo il motivo per cui James quella sera aveva completamente perso il controllo non poteva più continuare a condurre quella doppia vita il proiettile nel cranio di Molly purtroppo era troppo danneggiato per valutare se fosse stato o meno sparato dalla calibro 22 appartenente a James prima del processo James era stato incarcerato e aveva parlato più e più volte con due detenuti che si trovavano nel penitenziario con lui e a quanto pare avrebbe esclamato con loro che si trovava in carcere perché aveva lasciato qualcuno a faccia in giù nel fango in seguito questi due detenuti lo avevano raccontato in tribunale e pensate l'ironia del destino il 29 aprile del 2021 cioè esattamente tre anni dopo alla data in cui si sarebbe dovuto sposare con Molly James viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado e condannato a trascorrere il resto della sua vita in carcere senza possibilità di condizionale una delle dichiarazioni che mi ha più colpito seguendo alcune alcune parti del processo è stata quella di suo fratello Tim Tim infatti aveva raccontato che la madre di Molly nei due anni successivi alla morte della figlia aveva avuto dei grossi problemi di salute dovuti allo shock e al profondo dolore e le sue condizioni di salute peggiorarono notevolmente fino purtroppo alla sua morte nel 2020 e nello stesso anno sempre nel 2020 a seguito della perdita di sua figlia Molly e della moglie anche il padre Timothy purtroppo era morto a causa di un infarto quei genitori erano letteralmente morti di dolore per la perdita della loro figlia e Tim era rimasto senza la sua famiglia di origine aveva perso la sua amata sorella aveva visto i genitori consumarsi nel dolore nella disperazione e poi aveva perso anche loro e ricordiamo che Molly al momento della morte aveva un bambino in quel momento di 10 anni Declan e quindi anche lui rimarrà senza una madre purtroppo non era stata solo Molly la vittima di James ma la sua intera famiglia io come ho detto questo caso l'avevo già trattato e oggi raccontarlo nuovamente fondamentalmente mi fa venire in mente le stesse domande di 5-4-5 mesi fa ma fino a che punto voleva spingersi James perché è vero che lui aveva pagato una parte del matrimonio lui era effettivamente andato in comune a sposarsi ma sapeva sapeva benissimo che sua moglie Melanie era viva e vegeta a casa sua quindi mi domando veramente fino a che punto volesse portare avanti questa farsa pensate che James pianificasse già da tempo l'omicidio di Molly pensate che semplicemente lo stress per questa doppia vita fosse semplicemente sfociato quella notte in un raptus omicida e per questo Molly aveva perso la vita sono veramente curiosa di sentire le vostre opinioni e aspetto i vostri commenti e noi ci vediamo molto presto con una nuova storia ciao